E ancora cattive sorprese per l'AMIU, ancora commercianti indisciplinati con la raccolta differenziata e rifiuti accumulati agli angoli delle strade di via Cacuri. A Torre Quetta invece, nonostante i sollecici da parte degli operatori ecologici, non viene rispettata la differenziata. Rifiuti di diverso genere vengono gettati in bidoni adibiti alla raccolta di materiali diversi. Le foto che state vedendo ci sono state inviate dal presidente dell'AMIU Gianfranco Grandaliano, che annuncia in relazione ai fatti di via Cacuri che lunedì invierà una lettera firma anche del presidente del secondo municipio con la quale chiederemo al sindaco e al comandante della polizia municipale di procedere ad elevare le sanzioni e i trasgressori tutti individuati. Chiederemo, continua Grandaliano, anche la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica al fine di valutare la sussistenza di ipotesi di reato. Record amore per due coniugi baresi, Angelo e Margherita Corti compiono 70 anni di matrimonio. Il segreto del loro amore nel nostro servizio. Ti voglio bene, ti voglio bene! 92 anni lei, 93 anni lui. Angelo e Margherita Corti il 22 luglio hanno festeggiato 70 anni di matrimonio. Un record d'amore per il capo cantiere bresciano che durante la guerra trovò ospitalità nella casa di una famiglia barese, casa in cui ha trovato anche l'amore. Un vero e proprio colpo di fulmine dopo sei mesi in matrimonio, poi tre figli, Giuseppe, Anna Maria e Michele e una vita passata insieme. Io voglio lei, chiedo alla mano sua, voglio lei. Come dice questa parola? Scappò, scappò dentro il capo. Mamma, mamma, vedi quel minuto che ho fatto! Perché lei teneva tanti ragazzi che le volevano. Però non ne volevo nessuno perché ero lontano, non so, non lo so. La mamma, per dita la verità, si è anche innamorata, perché era furba la mamma, era dritta, era vecchia, insomma, era anche vecchia. E per lei, perché lei non lo voleva tanti. Lei quando aveva me, Angela, insomma, però, quando io lo volevo portare fuori dal cinema, lei davanti, io mi vedi dietro la nonna e lei mi vedi dietro. No, lei davanti, la nonna e io mi vedi dietro. Questa sera grande feste in famiglia nella loro villetta Iapigia, costruita con le proprie mani dal signor Angelo. Dopo la benedizione di don Antonio Bonerba, il via i festeggiamenti con una quarantina di parenti ed amici. E tra un preparativo e l'altro, dopo 70 anni, scappa ancora qualche bacio. Perché il vero segreto per un matrimonio longevo è l'amore, o forse ci confida Angelo, per donare qualche scappatella. Il segreto, io dico il segreto, è essere onesti tutti e due, sinceri. C'è anche la magotella, perché ognuno... Ci viene sempre la cosa, però deve stare nei suoi pari, deve stare nei suoi pari, volessi bene, volessi sinceri. Insomma, se io guadagno il pane con il cucchiato, lei non deve spendere con il cucchaino. E dal primo al 5 agosto si terrà a Magli il tradizionale mercatino del gusto. Scopriamo quali sono le novità per questa quindicesima edizione nel nostro servizio. Piazza del Vino, via dell'olio extravergine d'oliva, via del benessere, piazza del gelato, l'angolo del caffè. Le strade e gli angoli di Magli in provincia di Lecce cambieranno il proprio nome per ben cinque giorni, dal primo al 5 agosto, in occasione della quindicesima edizione del mercatino del gusto. Oltre 90 bancarelle per un vero e proprio viaggio enogastronomico dal nord al sud della Puglia. Degustazioni, ma anche workshop, gusto, lab, cene in strada e appuntamenti letterari e cinematografici come quello del set del gusto Sguardi, Sapori, Suoni che in collaborazione con la Puglia Film Commission ospiterà nel latro di Palazzo Capece dal 2 al 5 agosto quattro incontri con attori di fama nazionale. Tutte le serate saranno accompagnate dalla buona musica a cura dell'associazione culturale Jazz Bud Powell di Maglie, spazio anche ai più piccoli con il mercatino junior e i laboratori in sapore in gioco e nelle masserie didattiche. Il mercatino del gusto quest'anno sarà anche multimediale. Sarà infatti possibile essere sempre aggiornati su appuntamenti, eventi ed aziende grazie ai QR code a posti su bancarelle e segnaletica. Inoltre sarà uno tra i 5 eventi che saranno seguiti dai travel blogger del progetto internazionale Mass Love Festivals. La Puglia, unica regione italiana a partecipare al progetto, sarà il centro dell'attenzione dei social network per ben 5 giorni. Una tradizione, oltre che un appuntamento fisso, per milleia di turisti da ormai 15 anni. Il mercatino del gusto è organizzato dall'omonima associazione con il sostegno di Camera di Commercio di Lecce, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Maglie, il GAL, Terra d'Otranto e alcune aziende private con il patrocinio di Conf Commercio, Conf Esercenti e Conf Artigianato e in collaborazione con Apulia Film Commission e Puglia Events. Il mercatino del gusto è diventato un evento fondamentale non solamente qui nel Salento, ma ormai nel panorama nazionale. Il mercatino del gusto attraverso le vie di maglie lungo le quali si snodano questi percorsi enogastronomici ormai raccoglie tantissimi turisti. Sono molti i turisti che vengono qui nel Salento proprio in occasione del mercatino del gusto. Io da sempre lo definisco il salotto bello, il salotto buono dell'esposizione dei nostri prodotti enogastronomici. Come al solito cerchiamo di fare ogni anno un bilancio delle cose positive da amplificare, delle cose negative da tagliare. Quest'anno diciamo una nuova collaborazione importante è quella con Apulia Film Commission e quindi per quattro sere ci sarà la proiezione di un trailer di un film girato in Puglia con regista ed attori presenti, quindi è un aspetto nuovo del mercatino. Riproponiamo anche sotto l'aspetto culturale il caffè letterario e una novità di quest'anno è la Wine Passion, l'enoteca che noi abbiamo fatto sopra Palazzo De Marco dove ci saranno delle belle iniziative. Su luglio si riconferma un mese anomalo anche per questo weekend. Sentiamo allora quali sono le previsioni del tempo dal colonnello Vita Antonio Laricchia. Buongiorno a tutti, si parte con una giornata parzialmente soleggiata, sì perché è una Puglia divisa in due, noi ci stendiamo da nord verso sud, già in queste ore, in queste prime ore del mattino il cielo si sta nuvolando sul Gargano e nelle regioni di confine per l'arrivo di un altro corpo nuvoloso. Purtroppo è un luglio veramente disastroso e disastrato quello che stiamo avendo quest'anno e purtroppo dopo circa 12 anni si replica con pioggia e rovesce temporali. Ennesima perturbazione come vi stavo già accennando, avete già capito da quello che vi avevo già pronunciato, ci sta arrivando addosso, rovesce temporali già dal pomeriggio, serata sul Gargano e nelle regioni di confine Basilicata e Molite, da nord verso sud per tutta la nostra regione. Quindi ci andremo ad annuvolare pomeriggio, serata, a rischio qualche manifestazione serale per qualche acquazzone, ma speriamo che questo non accada rendendo infelici i nostri amici. I venti da quadranti settentrionali, i mari imprespati, specialmente Basso Adriatico e Caladotto, una ventilazione che rende piacevole la giornata. Il calore e l'afa sono lontanissimi, non ne parliamo nemmeno, quindi domani, domenica, ancora nuvoloni, nuvolità irregolari, a tratta intensa, qualche rovescio temporale, l'indecisione di stare a casa o andare per mare è quasi al 50% di mari mossi, molto mosso, Basso Adriatico e Caladotto, per venti da quadranti settentrionali, temperatura al di sotto della media del periodo, vuol dire 28-29 gradi, e non oltre. Grazie a tutti. Vi ricordo i nostri siti, internet telebari.it e radiobari.net per tutte le vostre segnalazioni, il nostro indirizzo di posta dedicato, infochiocciorealsegnodizorro.it Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Grazie. 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 Grazie.